Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telestense, tanta la cronaca di cui parleremo anche, cronaca giudiziaria con i casi degli omicidi risalenti al 2021 ma che a livello giudiziario stanno proseguendo in questi giorni, parleremo anche ovviamente di coronavirus dove si conferma dopo, visto che i dati vengono analizzati anche di settimana in settimana e soprattutto si notano trend in questo periodo, il trend che si registra appunto è quello di un miglioramento della situazione anche sul nostro territorio, il territorio ferrarese ma in questa edizione parleremo anche di un'importante notizia del finanziamento per 2 milioni di euro per i lavori di restauro dell'auditorium del conservatorio di Ferrara che è chiuso alla didattica da ormai diversi anni e potrebbe tornare agli antichi splendori grazie a questi lavori che saranno finanziati appunto a breve. Parleremo però anche di ambiente, vedremo dei progetti, i progetti che riguardano i fondi PNRR del comune di Ferrara, molto importanti questi progetti per il futuro green della città estense e poi vedremo anche un altro progetto che riguarda le api e il loro utilizzo per rilevare eventuale inquinamento ma oggi è stata anche la giornata del ritorno in campo della SPAL, la magia di Pepito Rossi oggi pomeriggio contro il Vicenza non è bastata per vincere sul campo dei Veneti 1-1 il risultato finale, sentiremo il commento di Alessandro Sovrani ma apriamo questa edizione con la tragedia di ieri a Cervia nel Ravennate dove un operaio di 44 anni di Comacchio Antonio Ferraresi è deceduto in un incidente sul lavoro secondo le prime ricostruzioni il 44enne dipendente di un'azienda detta la cura del verde pubblico stava potando degli alberi con l'ausilio di un cestello per cause ancora in corso d'accertamento da parte degli inquirenti l'uomo sarebbe caduto da un'altezza elevata e non si escluderebbe un cedimento della struttura su cui si trovava poi la vittima immediato l'intervento dei soccorritori del 118 ma per Ferraresi non hanno potuto fare nulla. Comacchio oggi e già da ieri si è stretta attorno alla famiglia di Ferraresi una famiglia conosciuta e stimata nella cittadina lagunare una tragedia il commento del sindaco Pierluigi Negri che insieme a tutto il comune si dicono vicini alla famiglia di Antonio. E ora dobbiamo parlare di cronaca giudiziaria perché fra pochi giorni sarà trascorso un anno esatto dal duplice omicidio di Rero dei cugini Benazzi ci sono ancora diversi aspetti da chiarire sentiamo. Il 28 febbraio sarà passato un anno esatto dalla morte di Riccardo e Dario Benazzi cugini di 64 e 70 anni i cui corpi vennero trovati in aperta campagna in un'auto bruciata tra Rero e Italba in provincia di Ferrara. Secondo alcune ricostruzioni del delitto vennero uccisi a colpi di fucile poi trovati cadaveri all'interno dell'auto di uno dei due cugini mezzo poi dato alle fiamme. Pochi giorni fa il giudice per le indagini per eliminare i Vartan Giacomelli ha respinto la richiesta di arresto di custodia cautelare in carcere per Filippo Emanuele Mazzoni 49 e 20 anni padre figlio indagati dalla procura di Ferrara dalla primavera scorsa per l'omicidio dei cugini Benazzi. Per il GIP come riportato nelle motivazioni del rigetto delle richieste di carcerazione da parte della procura non verrebbe superata la soglia minima dei gravi indizi di colpevolezza. L'accusa avanzata dal PM Lisa Busato che coordina le indagini e di concorso in omicidio volontario e premeditato e distruzione di cadavere ma con rigetto delle misure cautelari da parte del GIP ora la situazione è in corso di definizione. La procura di Ferrara ha così presentato ricorso al Tribunale della Libertà di Bologna. Ora si attende la pronuncia del riesame per far maggiore luce su quanto accaduto quasi un anno fa e sull'eventuale coinvolgimento nella vicenda del padre e del figlio accusati dalla procura. Parliamo adesso di un'altra vicenda drammatica che risale l'anno scorso. Andrà a processo l'ex compagno di Rossella Placati, la bondenese uccisa da un anno fa. L'accusa è nei confronti appunto dell'ex compagno, un artigiano fermato poi nei giorni successivi all'omicidio dai carabinieri. Ma sentiamo quali saranno le prossime tappe di questo processo. Rinvio a giudizio per Doriano Saveri, l'ex compagno di Rossella Placati, la cinquantenne, trovata morta nella sua abitazione nel borgo di San Giovanni a Bondeno quasi un anno fa, il 22 febbraio 2021. Andrà quindi a processo l'artigiano accusato dai sostituti procuratori di Ferrara Stefano Longhi e Lisa Busato del reato di omicidio volontario aggravato. Il giudice per l'udienza preliminare Danilo Russo ha accolto la richiesta dei magistrati di rinviare a giudizio l'ex della vittima e la prima udienza dovrebbe tenersi a metà del prossimo mese di aprile. Durante l'udienza preliminare la famiglia di Rossella Placati si è costituita parte civile. Nel procedimento. E ora parliamo ancora di cronaca 2. Inseguimenti in poche ore da parte delle forze dell'ordine nel ferrarese. Il rinotte, un uomo che doveva trovarsi agli arresti domiciliari, è stato notato dalla polizia alla guida di un'auto in via Bologna, non si sarebbe fermato all'alt degli agenti e così sarebbe scattato l'inseguimento ad alta velocità con anche manovre pericolose, hanno detto gli agenti. L'inseguimento però si è concluso in una strada a fondo chiuso dove l'uomo ha tentato di scappare a piedi nascondendosi dietro un cespuglio ma poi è stato rintracciato dalla polizia. Ora l'uomo che si trova nelle camere di sicurezza della Questura è in attesa del rito direttissimo e sempre ieri nel tardo pomeriggio invece, ma siamo qui nell'Argentano a Santa Maria Codifiume, i carabinieri sono riusciti a fermare un motociclista che avrebbe eluso l'alt dei militari essendo sprovvisto di patente e assicurazione. L'uomo è stato sanzionato e il mezzo sequestrato e il rischio ora che venga anche confiscato. Ora passiamo però al bollettino della pandemia. Purtroppo si registra ancora un decesso dall'ultimo bollettino che emerge sul territorio estense dove però continua a calare la pressione ospedaliera sia a Cona che negli ospedali della provincia estense dove la diminuzione dei ricoveri e anche della pressione appunto è più marcata. Il trend quindi suggerito dai dati degli ultimi giorni ma anche delle ultime settimane fa bene sperare per i prossimi tempi ma vediamo qual è la situazione coronavirus su territorio estense. Questa settimana si è confermato il trend di alleggerimento della pressione ospedaliera sui reparti covid ferraresi 51 al delta 30 a centro mentre rimangono a 81 i posti occupati a Cona. 5 le persone in rianimazione covid al Sant'Anna. Purtroppo si registra un nuovo decesso causa complicazioni covid un ferrarese di 90 anni 576 intanto i nuovi guariti in territorio estense e più di 280 i nuovi positivi. Anche nell'aggiornamento in Emilia Romagna si registra un calo continuo della pressione ospedaliera in regione però sono 21 gli eccessi quasi 8.500 nuovi guariti e più di 3.300 nuovi casi. Capitolo vaccini nel ferrarese 741 le dosi somministrate venerdì che hanno fatto salire a oltre 297.000 le prime dosi in territorio estense, più di 285.500 le seconde dosi e quasi 207.500 le terze dosi totali. In questa fase e negli ultimi mesi di pandemia soprattutto durante il momento più alto diciamo della campagna vaccinale dove le somministrazioni andavano nel nostro territorio a quote come 4.000 dosi al giorno. La domanda era ricorrente ma ci sarebbero sempre più evidenze che vaccinarsi contro il covid durante la gravidanza per una donna non sarebbe un problema come detto anche dallo specialista dell'azienda USL di Ferrara, il dottor Corazza. Sentiamo allora perché, quali sono queste evidenze scientifiche? Gli studi più recenti concorderebbero le donne in gravidanza che si vaccinano contro il covid sono più protette dalle complicanze da infezione. Il periodo migliore per la vaccinazione nell'arco della gravidanza è il secondo e il terzo trimestre di gestazione, spiega il direttore del Dipartimento Materno e Infantile dell'azienda USL di Ferrara, Fabrizio Corazza, citando le evidenze scientifiche degli ultimi studi fatti a livello nazionale a cui hanno partecipato anche le unità di ostetricia e ginecologia di Cento e Cona, oltre a studi internazionali. Si sarebbe evidenziato nel tempo che il vaccino è in grado di diminuire gli effetti sfavorevoli della malattia sul benessere materno fetale, ha detto Corazza, che è anche il direttore dell'unità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santissima annunziata di Cento. Le evidenze scientifiche avrebbero dimostrato con il passare di mesi che la donna gravida, quando contrae l'infezione da Covid, ha un rischio più alto di abortire o di avere un parto pretermine. Si aggiunge anche poi a questo l'incidenza aumentata del taglio cesareo. Il direttore Corazza spiega che è possibile aderire alla vaccinazione in corso di ricovero afferendo al percorso vaccinale dell'ospedale Santissima annunziata di Cento. E cambiamo adesso totalmente argomento siglato il finanziamento per l'avvio dei lavori dell'auditorium del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara lo scorso 9 febbraio. In uno studio notarile a Roma il direttore del Conservatorio, Fernando Scafati, ha firmato l'atto che prevede il finanziamento ministeriale di 2 milioni di euro per gli attesi, ormai da anni lavori all'auditorium. La firma è venuta alla presenza di un funzionario della cassa, depositi e prestiti. Tornerà così a disposizione l'auditorium del Conservatorio che dal 1996 è stato interdetto anche all'uso didattico per importanti lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e alla bonifica dell'ambianto che era presente. Ricorderete che siamo stati anche come telestense in alcune occasioni all'interno dell'auditorium per eventi sporadici legati alla musica ma anche alla cultura. Ma adesso con questo finanziamento e con la sigla di questa procedura appunto si spera che possa tornare definitivamente fruibile soprattutto per gli studenti del Conservatorio. E a proposito di progetti, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è sicuramente molto atteso anche dagli enti locali, diversi comuni stanno presentando tanti progetti come il Comune di Ferrara, di alcuni ne abbiamo già parlato, molti dei progetti dell'amministrazione estense però riguardano anche il futuro green di Ferrara. Sentiamo quali. Due nuovi centri di raccolta rifiuti, uno in via Marconi e uno in via Riana e tre impianti innovativi, uno per il recupero e il riciclo dei materassi usati, un secondo per il trattamento termico di ligno cellulosa di scarto e il terzo per il trattamento fanghi di depurazione con produzione di energia utilizzata per l'alimentazione del depuratore cittadino da realizzare in via Gramicia. Questi cinque progetti candidati al bando PNRR nell'ambito delle sfide Rivoluzione Verde a Ferrara, i progetti sono stati definiti in stretta collaborazione tra il Comune di Ferrara, ERA ed Atesir, soggetto deputato alla presentazione delle candidature. Gli investimenti complessivi dei cinque progetti ammontano oltre 56 milioni di euro. Inoltre la Giunta di Ferrara ha dato l'ok alla flotta di 10 autobus a idrogeno che circolerà in città nei prossimi anni grazie a un nuovo stanziamento dei fondi PNRR per circa 7 milioni di euro. Entra così nella fase operativa il progetto dell'amministrazione comunale predisposto da TIPER, l'azienda partecipata che gestisce il trasporto su gomma Bologna e Ferrara, di concerto con l'AMI, l'Agenzia Mobilità Impianti di Ferrara. I primi tre autobus di questo tipo saranno in esercizio entro il 31 dicembre 2024. L'intera flotta sarà a disposizione dell'utenza entro il 30 giugno 2026. Parliamo ancora di ambiente perché abbiamo visto pochi giorni fa il progetto di ERA e della Regione Emilia-Romagna per l'abbassamento dell'inquinamento provocato dal termovalorizzatore di rifiuti di Ferrara in via Diana. Tutto questo vuole essere abbattuto l'inquinamento attraverso la piantumazione già venuta di oltre 200 piante di Paolonia, una specie arborea a cui sono riconosciute le maggiori capacità di assimilazione di anidride carbonica e di polveri sottili, ma la Multi Utility in Italia sta sperimentando anche un progetto di biomonitoraggio ambientale dal titolo Capiamo, attivo in diversi siti impiantistici, tra i quali il termovalorizzatore di Pozzilli in Molise che sfrutta la capacità delle api di rilevare anche le minime presenze di inquinanti per verificare l'assenza di sostanze nocive vicino al termovalorizzatore locale. Allora approfondiamo questo tema molto interessante che potrebbe interessare anche Ferrara prossimamente, lo approfondiamo con l'amministratore delegato di ERA Ambiente, Andrea Ramonda. Negli ultimi anni si parla sempre di più dell'impatto che ha il clima, che hanno le attività dell'uomo sull'ambiente, in particolare su alcuni tipi di insetti come le api. Noi abbiamo voluto esprimere su alcuni stabilimenti come un impianto che abbiamo in Molise, un progetto attraverso dei professori dell'università di biomonitoraggio attraverso proprio le api per andare a captare nel miele che le api producono la qualità dell'aria dove queste api vivono. Ovviamente gli alveari sono stati posizionati vicino all'impianto di termovalorizzazione. E quindi ogni anno abbiamo anche così la peculiarità che produciamo veramente del miele di altissima qualità prodotto dagli insetti e dalle api che vivono vicino ai nostri termovalorizzatori. Le piante di Paolonia vicino al termovalorizzatore di Ferrara rientrano in questo obiettivo, in quello di poter coniugare una giusta e corretta gestione di un impianto di termovalorizzazione che è un'attività di cui le nostre città, le nostre industrie hanno bisogno per gestire nel modo più corretto possibile quei rifiuti che non si possono recuperare come recupero di materia, limitando anche con impianti di prossimità il traffico che è una delle cause principali dell'inquimento atmosferico, con attività di monitoraggio, biomonitoraggio che può essere fatto attraverso piantumazioni di alberi, piuttosto che biomonitoraggio con le api o altre attività. Parliamo di beneficenza perché ieri a Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico è stato consegnato il maxi assegno simbolico di oltre 16 mila euro ai rappresentanti delle tre associazioni no profit beneficiarie della raccolta fondi organizzata in occasione del concerto di beneficenza dell'aeronautica militare che si è tenuto lo scorso 8 dicembre al teatro comunale a Bado di Ferrara che Telestense mandò anche in onda stiamo parlando ovviamente del concerto, le tre beneficiari e associazione nati prima, gruppo Estense Parkinson e associazione malati Alzheimer, tutte operanti sul territorio Estense erano state selezionate in accordo con l'assessorato alle politiche sociali di Ferrara. Il concerto di beneficenza ci ha permesso di trascorrere una serata nel segno della rinascita con il programma musicale Film in Musica ha detto durante la consegna il generale Claudio Gabellini, comandante del CO di Poggio Renatico che ha sottolineato anche e soprattutto l'importanza di questi fondi per queste associazioni ferraresi. E ora però dobbiamo parlare di sport, di calcio, pareggio amaro ma con qualche luce oggi pomeriggio per la SPAL nella sfida di Serie B a Vicenza contro i padroni di casa 1 a 1. Il risultato finale è la magia dell'attaccante bianco-azzurro Pepito Rossi, non è bastata per la vittoria ma ci dice tutto Alessandro Sovrani che era per noi allo stadio di Vicenza. Può avere varie chiavi di lettura il pareggio 1 a 1 della SPAL sul campo del Vicenza. Da una parte il fatto che in virtù di questo risultato oggi la formazione di Roberto Venturato si ritroverebbe salva con un punto di vantaggio sul quintultimo posto occupato dall'Alessandria che è stata sconfitta 3 a 0 a Ascoli. Contemporaneamente è giusto valutare che il valore dell'organico a disposizione di Brocchi è vistosamente superiore rispetto a quello che dice la classifica. Dall'altra parte è anche doveroso sottolineare come la SPAL non si è riuscita a ritornare al successo nonostante abbia affrontato la squadra che attualmente si ritrova in penultima posizione. Comunque una SPAL in crescita rispetto alle ultime uscite anche sul piano fisico. Una SPAL che ha avuto la possibilità di far bottino pieno ma che al tempo stesso sempre con fuori di bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto nelle serrate finale in posto dall'Anerossi ha corso in due circostanze il rischio di uscire dal menti a mani vuote. Varie variazioni nello schieramento. La sorpresa al fianco di Colombo e Pepito Rossi al quale va il merito con una gran giocata, giocatore di classe sopraffina, di aver sbloccato il risultato illudendo la SPAL di poter portare a casa i tre punti. Partita con all'inizio entrambe le squadre un po' contratte. Quarantasettezio minuto quando mai ci si aspettava che il primo tempo potesse concluersi con la SPAL in vantaggio sarebbe stato molto importante rientrare negli sfogliatoi sull'1-0 per i biancoturi punizione da una decina di metri, defilata sulla destra dal limite dell'area di rigore della formazione ferrarese calciata da Ranocchia, pallone respinto da Riva poco al di fuori dell'area è arrivato se i piedi di Cavion che ha concluso anche in modo sporco raso a terra a fil di palo sulla destra della porta difesa da Alfonso. Finisce così 1-1 come detto in precedenza, risultato importante per la classifica e per il morale anche perché sostenuto da una buona prova per una SPAL in crescita sia sotto il profilo tecnico, tattico che fisico in vista del doppio impegno non impossibile contro Ternana e Parma. Un Parma in crisi, sconfitto coppio 3-2 oggi in casa dalla Ternana che arriverà a Ferrara martedì galvanizzata. E di questo si parlerà durante il lunedì sport la prossima settimana ovviamente ma con questa notizia del telegiornale è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.